Che sia importante nessuno lo discute, che sia meritato non lo so, la cooperativa meridiana è composta da 300 persone e io probabilmente immeritatamente raccolgo i frutti del lavoro di tanta gente, sicuramente mi ha fatto molto piacere anche se probabilmente nel corso dei decenni tante personalità molto più importanti di me l'hanno ricevuto e io mi sento un po' forse l'ultimo arrivato in questo senso, non me lo aspettavo, è una cosa che è giunta molto gradita ma assolutamente non attesa.